Movimento, vai con le macchine e azione! Allora, ciao a tutti, inizia con allora, inizia con ciao a tutti e benvenuti! Prepariamo a girare, signori, silenzio, grazie, motore! Uno, due, tre, letta! Democrazia, portami via se non sto male Forse la devi allargare un pelo e... E questa è la macchina da presa! Ci sono cose dette ed altre sono scritte Ci sono vuoti di palazzo, ma questo è il prezzo 40 gradi, siamo su troppi cosi Muta la distanza! Faccio che stato è tutto quello che sarà Gli avevo detto non dimagrire, invece mi è dimagrito Questo se lo mettiamo a ghiacciare è un bello polone! Ora dobbiamo salire sul cavallo per la prima volta nella nostra vita Ultimo saluto di tutti, ciao! Un, due, tre, letta!